Mi tenga le mani. Eh? Mi stringa i polsi. Cosa? Mi tenga le mani! Mi tenga le mani! Le tenga forti! Perché? Oh! Oh! Hector. Hector? Hector, amore mio. Mi ho fatto tuo amore. Che sta facendo? Dopo le costi a calma. Tutte quelle promesse. Come delle fiamme nella notte. E poi niente. Il buio assoluto. Il nulla. Ho bisogno di tempo. Perché dire se sei davvero la donna della mia vita? Mi sono perso. Ti ho perso. Mi sono perso. Sei troppo. Sei troppo per me. Non ti chiedo di aspettare. No. Perché tu devi vivere la tua vita. Sarò felice se tu sarai felice. Sarò felice di sapere che sei felice. È grave! È grave! È grave! È grave qui! Ho creduto le tue stranzate. Ho creduto le tue stranzate. E poi tu mi hai detto... Ci vediamo tra un anno sul Pondorf. Perciò... Passo tutti i giorni sul Pondorf. Passo tutti i giorni sul Pondorf. Perché ti è parte di me! Perché ti è parte di me! È il mio caro! È il mio caro! Perché non te lo sei portato in mozza amico? Perché non te lo sei portato in mozza amico? E adesso Pupù è scappato via! Nessuno si sente al sicuro con me. Eppure io aspetto, aspetto. E moltiplico le mie illusioni. Lei è un'attrice magnifica. Grazie.